per introdurvi all'argomento di oggi voglio iniziare da una storiella un fatto reale che mi è accaduto quando era proprio all'inizio stavo facendo un tirocinio a torino in uno studio dove stavo lavorando stava partecipando a un concorso e quindi oltre a tutte le tavole di progetto e quant'altro erano previsti anche i rendering e ricordo che nella realtà dei fatti c'era una chiesetta dovevano metterci poi una fontana e c'erano già degli alberi esistenti però non era centrato rispetto alla chiesa nella realtà e lo sapevano io vi faccio male ma qua com'è che lo risolvetevi dicendo e lo risolviamo modificando il rendering cioè falsificando un po' l'immagine che si stava creando non era un enorme errore un grosso enorme difetto però mi ha fatto capire che anzi la frase finale era e noi dobbiamo vincerlo il concorso per cui anche delle piccole o meno piccole imprecisioni o falsificazioni in questo caso era proprio una vera falsificazione diciamo era concessa ed è una cosa quasi normale nel mondo dei concorsi del rendering che vengono fatti e infatti l'argomento di oggi è proprio quello che si vedono delle immagini virtuali fighissime bellissime e poi quando si vede poi la realtà la realtà delle architetture non sempre non sempre ci sono i casi che può capitare ma non sempre vengono rispettate ecco queste aspettative o almeno nelle mie esperienze tante volte è successo così e quindi appunto già da lì ho capito che non bisogna prendere troppo sul serio sicuramente il rendering è uno strumento molto importante per nel mondo dell'architettura anche proprio per l'architetto che progetta si fa delle idee degli studi che verrà modificato che verrà rivisto proprio perché già hai la possibilità di vedere diciamo realizzato virtualmente il tuo progetto ed è qualcosa di fantastico però il problema è che tante volte poi per vincere il concorso per essere più spettacolari si creano tutti dei rendering che sono un po falsificati potremmo anche proprio dire non è molto bello però effettivamente come mi è appunto successo l'obiettivo è quello di stupire o di vincere un concorso e poi bisogna anche tener conto che la realtà dei fatti non viene sempre rispettata appunto nei rendering o nel senso che mi spiego meglio la realtà quando si progetta poi vengono fuori tante modifiche tante correzioni tante cose che possono capitare in un progetto soprattutto quando si parla di grossi progetti e quindi che vanno a modificare notevolmente l'idea iniziale del dell'architetto stesso magari l'architetto aveva un'idea molto più bella più figa ma più costosa e poi quando si deve costruire probabilmente dovrà scontrarsi con qualcuno che cercherà magari di abbassare il prezzo e cercare di cambiare i materiali o quant'altro e ovviamente a discapito anche dell'estetica stessa del progetto e quindi mi viene in mente proprio il discorso è partito anche dallo scorso episodio quando vi ho parlato della piazza di big di jar kingles progettata nel quartiere del buttersea power station di londra che avevo visto di render molto interessanti di questa piazza perché erano queste forme così molto fluide dinamiche e arrotondate che poi nella realtà dei fatti quasi non riconoscevo realmente avevo visto questo progetto ma ero lì e dico dove è la piazza sarà questa qui perché bene o male ci assomiglia ma veramente sono rimasto molto molto deluso dalla realtà dei fatti e la delusione viene anche dal fatto come dicevo le modifiche in corso d'opera però che tutte queste forme fluide vi dicendo non potevano essere mantenute come dire così inalterate senza mettere i parapetti senza mettere delle protezioni perché la gente poi si può arrampicare farsi male e quindi oppure da punto di vista costruttivo è stato sicuramente realizzato in maniera diversa e quindi non ha dato la stessa fluidità che voleva dare l'architetto oltre al fatto che anche proprio dall'altro c'erano delle queste forme più arrotondate invece ci passava poi una una sorta di ponticello rettilineo che andava proprio a a modificare tanto e a rovinare un po tutto il progetto però non è solo quello come dicevo i parapetti il le protezioni per la sicurezza e tutto l'ha fatto sì che il progetto non fosse come rappresentato dai render e non fosse neanche granché e infatti mi viene sempre in mente il fatto che mi ricordo di una intervista di renzo piano che lui dice sempre che su tante arti la musica la puoi ascoltare un quadro probabilmente lo puoi vedere anche su uno schermo o puoi fruirne appunto in varie forme differenti l'architettura se la si vuole proprio assaporare bisogna effettivamente andarci di presenza per vedere come realmente perché comunque le foto sono statiche l'architettura è comunque tridimensionale il video già può aiutare molto ma comunque sia non è non è la stessa cosa infatti quando si è poi appunto personalmente sul posto effettivamente si può vedere meglio il progetto e questo appunto ricordo che lo diceva renzo piano che l'architettura va vista infatti divagazione veloce lui promuove e paga dei ragazzi ogni anno un viaggio nel giro nel mondo per vedere i suoi progetti vederli con appunto una borsa di studio e quant'altro vabbè piccola divagazione e a tal proposito mi viene in mente per esempio quando ero andato a pechino mi sono trovato all'interno di un'architettura del suo center di Zadid e che io onestamente non ho mai apprezzato molto le architetture di Zadid così fantasiose e estreme anche tutte fluide non lo so non era nel mio gusto ma quando mi sono ritrovato lì all'interno di questa poi c'è tutta una sorta di piazza interna con delle fontane con i bambini che giocavano e mi sono reso conto che era un'architettura effettivamente funzionava funzionava da un punto di vista sociale e poi anche da tutte le foto che io ho fatto intorno di tutte queste sfumature luci colori che si venivano a creare con queste forme così strane mi sono reso conto che effettivamente forse mi piaceva o comunque era sicuramente curiosa interessante da vedere e quindi da un'idea che mi avevo fatto appunto studiandola vedendone le foto poi di presenza ho cambiato radicalmente l'opinione però mi sto forse allontanando il discorso dei render perché qui bisogna appunto distinguere i rendering poi dobbiamo anche considerare le foto fatte dai professionisti perché poi quando si vedono sui siti sono tutte foto bellissime nelle condizioni ideali e probabilmente nascondendo i vari difetti o modificando anche le foto e poi la realtà quindi potremmo anche dire che ci sono tre step rendering foto professionali e poi la realtà dei fatti e quindi bisogna fare attenzione molta attenzione se effettivamente vogliamo giudicare correttamente un progetto un'ultima cosa che invece volevo ancora dire che ogni volta che si fanno i rendering normalmente riempiono di piante belle naturali c'è in questi ambienti così tanto che poi la pianta piace sempre riempie l'immagine ci sono queste piante secolari giganti in progetti e poi la realtà non viene piantato niente o se vengono piantate delle striminzite piantine che ovviamente devono crescere se crescono oppure se si va qualche anno dopo le trovi lì abbattute morte secchi dipende i progetti dipende importanza se vogliono curarlo o meno però ecco un altro elemento è che le piante vanno sempre riempire queste queste immagini per stupire chi le vede ma poi nella realtà dei fatti le piante sono proprio un elemento per me importante che vanno a screditare a svalutare il progetto proprio perché alla fine o non vengono messe o se sono messe sono appunto le striminzite piccole insignificanti sperando che crescano ovvio magari si può rivalutare il progetto in seguito però e punto le piante un altro elemento che così vanno riempire sempre questi rendering che poi non rispettano la realtà conclusione del discorso bisogna sempre visitare un'architettura se si vuole avere un'opinione completa bisogna diffidare dei rendering anche se uno strumento come ho detto anche importante determinante per la progettazione la buona progettazione in architettura e quindi forse adesso potrete vedere in maniera differente o un po più critica anche appunto tutte queste immagini virtuali che ci vengano offerte da tutti i progetti che devono costruire e valutandola con più attenzione magari potete anche appunto vederla con un occhio diverso Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!